ciao oggi realizziamo delle simpatiche farfalle ci serve un foglio di carta quadrata che abbia delle dimensioni 15 x 15 e le forbici cominciamo pieghiamo il foglio da angolo ad angolo prima un lato e poi l'altro adesso pieghiamo nuovamente da lato a lato adesso dobbiamo creare un triangolo tiriamo su il foglio e spingiamo primo da un lato e poi dall'altro adesso pieghiamo a metà ci servono le forbici dobbiamo tagliare il lato del triangolo dove ci sono tutte queste pieghe dobbiamo arrotondare la punta apriamo il nostro triangolo pieghiamo l'angolo destro verso la linea centrale poi l'angolo sinistro sempre lungo la linea centrale adesso questa punta la dobbiamo girare fino a qui e schiacciamo pieghiamo un attimino la nostra farfalla lungo la linea centrale così non rischiamo di far aprire la nostra farfalla la farfalla è pronta io ne avevo già realizzate due una con carta per origami e un'altra invece con carta da riciclo voi comunque potete utilizzare carta da riciclo di qualsiasi tipo comunque le farfalle sono colorate le possiamo anche colorare con colori a matita da querelli come meglio ci piace ciao